delle impronte questo questo qua not too much non tanto questo è capito? credo che anche questo fa la sua fatica salire iniziamo a preoccuparmi della mia non sembra ma questo pezzettino qui è tremendo se non hai 4x4 non sale gli mettiamo un paio di questi ecco vedi con questa nessun problema guarda è incredibile insomma una tenda che non uso mai mascherine a go go just in case corde you never know giubbottini salvataggio you never know profumo che serve sempre pennello per pulire quanto basta l'ombrello che non lo uso mai però l'evenienza carta igienica you never can tell bors da stracci questi anche servono sempre anzi adesso ne prendo uno bors a porta borse borsa porta borse borsa frigo un tarp cassetta per attrezzi più grandi cassetta per la spugnetta l'estintore il triangolo no a quello per la della tannica e della benzina l'olio in spugna ma è un'altra corda una scopa per tirare la neve un altro contenitore benzina e due cassette che alla prima curva cadranno una borsa che me la porto dietro da chissà quanto non l'ho mai usata una volta il tavolino portatile lo appoggi da qualche parte diventa un tavolino luce emergenza la ruota di scorta operazione scioglimento ghiaccio e allora professionale e voilà adesso guarda quanto pensi che possa ancora durare questo questo qui tre anni e sarà total fact ma io non capisco come mai la guarnizione non è a coprire questo mentre questa parte qua rimane tutta qua e la guarnizione rimane qua sotto però pare che sia normale qua è vero che si toglie però non è che c'è un taglio che dopo vada dentro insomma la macchina è quella che è bisogna come dire prendersi atto che su un error letter questa sarà la sua parte vedi com'è vedi com'è capito queste saranno le parti che verranno a essere mancanti il parafango è inutile guardarlo qua basta guardarlo qui beh magari adesso no vabbè dai dai it's ok it's a beautiful day oggi bella giornata fa un po freddo prendiamo i guanti della moglie e lì c'è attaccata le luci qua sono così funzionano non funzionano funzionano non funzionano ma che guarda hai capito com'è ecco capisci i miei livelli di meccanica